E' mercoledì 3 maggio, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia Massimiliano Chiocchio. In apertura la cronaca purtroppo con la notizia di un incidente stradale mortale che si è verificato nella tarda mattinata di ieri a San Martino in Pensilis ha perso la vita, Giancarlo Grazia Plena, 59 anni, tutti particolari nel servizio di Manuela Iorio. Un terribile schianto alle porte di San Martino in Pensilis si è portato via per sempre la vita di Giancarlo Grazia Plena, persona amatissima dalla comunità, instancabile organizzatore di eventi musicali e culturali, consigliere comunale con delega agli spettacoli nella passata legislatura di Massimo Caravatta. Giancarlo, 59 anni, era a bordo della sua Citroen e si stava recando al lavoro nella cantina vitivinicola che si trova tra San Martino e Portocannone, quando improvvisamente, questa è la ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell'auto che è finita dritta contro un tir di prodotti ortofrutticoli che stava salendo in paese guidato da un 48enne di Serra Capriola. Un impatto violentissimo che lo ha sbalzato fuori dall'abitacolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L'asfalto trasformato in un tappeto di pezzi di lamiera, di vetri, di parti meccaniche sbriciolate. Atterra anche i segni di frenata in corrispondenza delle ruote del tir, in un estremo tentativo di evitare lo schianto. Sul posto, il 118, i carabinieri di San Martino e i vigili del fuoco. La drammatica notizia è arrivata subito in paese. In tanti, sotto shock, si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Lacrime e profondo dolore sono scesi sulla comunità proprio nel giorno di San Leo, patrono di San Martino. Organizzatore del Joe Blues Festival, Giancarlo era riuscito a mettere in piedi un'edizione anche la scorsa estate nonostante la pandemia. La sua bacheca Facebook è stata travolta da messaggi di incredulità e di ricordo. Molto apprezzato, dotato di un'ironia e di un'autoironia non comuni, lascia la moglie e due figlie. Il sostituto procuratore di Larino, Marianna Meo, ha disposto l'autopsia. Ed ora l'aggiornamento sui dati del coronavirus. Ascoltiamo Piacentino Salati. Nel bollettino dell'ASREM nessun decesso e 23 positivi su 357 tamponi processati con il tasso di positività al 6,44%. Nessun nuovo ricovero, mentre i guariti sono 33. E la notizia buona è che si registra una persona dimessa da reparto di malattie infettive per cui i ricoverati sono ora 40, 38 al Cardarelli e 2 al Gemelli Molise. Due pazienti al Cardarelli sono stati trasferiti da malattie infettive a terapia intensiva. Restano Covifield, Santimodo di Termoli e Neuromed di Pozzilli. Per quanto riguarda i contagi nei comuni, 9 casi a Campobasso, 3 a Belmonte del Sannio, 2 casi a Campo di Pietra e Montaquila, 1 rispettivamente ad Agnone, Ferazzano, Fornelli, Guardiareggia, Mirabello Sanitico, Santa Maria del Molise e Toro. E adesso diamo uno sguardo alla nostra programmazione. Oggi pomeriggio alle 16.30, in occasione della carrese di Ururi, che si sarebbe celebrato oggi 3 maggio, andrà in onda uno speciale della trasmissione Millibar dedicato alla storica tradizione. Ospiti in studio saranno il sindaco di Ururi, Raffaele Primiani, e il consigliere delegato alla cultura, Emiliano Plescia. Nel corso della trasmissione verranno riproposti filmati e servizi si tratti dall'archivio storico di Telemolise. La trasmissione potrà essere seguita anche via streaming sul nostro sito web telemolise.com. A Millibar seguirà una puntata speciale di Viaggio in Molise, curata da Giuseppe Carriera, sempre dedicata alla carrese di Ururi. Appuntamento, quindi, oggi pomeriggio, alle 16.30. Bene, tutto per l'informazione. Passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura di rassegna stampa andiamo subito sulla home page del giornale del Molise. In apertura ci sono i dati Covid, nessun decesso e 23 positivi, 357 i tamponi processati. Poi si parla di questo terribile incidente stradale che c'è stato nella mattinata di ieri. Terribile schianto alle porte di San Martino. Muore sul colpo l'ex amministratore Giancarlo Grazia Plena. Poi si parla di vaccini attivate da questa mattina le prenotazioni per la fascia di età tra i 65 e i 69 anni. Speranza ha deciso, siamo sempre sul giornale del Molise. Il Molise resta in zona gialla. Scorriamo poi la home page del giornale del Molise e andiamo a vedere la sezione dedicata agli editoriali, alle idee e alle opinioni. che ospita questa mattina un articolo di Paolo Frascatore. Si può essere ancora ribelli per amore? Questo è il pezzo firmato da Paolo Frascatore. E adesso passiamo a futuro Molise. Regione svendesi il Molise aliena i suoi beni per ripianare i debiti. E questo è il pezzo di apertura che propone questa mattina futuro Molise. Poi si parla del Cardarelli, Barahom dal pronto soccorso, pazienti gravi in attesa sulle barelle. Anche su futuro Molise i dati del coronavirus. 23 positivi e zero decessi. Il bollettino ufficiale del 2 maggio. Su futuro Molise la notizia del tragico incidente di San Martino in Pensilis. Schianto fatale, auto contro camion. Muore un 58enne tragedia alle porte del Paese. Andiamo su primo piano Molise. Anche qui l'apertura è dedicata purtroppo all'incidente di San Martino. In Pensilis San Martino, 59enne, muore nello schianto contro un camion. Giancarlo Grazia Plena ha perso la vita nel giorno in cui si celebra il patrono disposta l'autopsia. Poi vediamo le altre notizie sul primo piano. Si parla di calcio, chiaramente di lunedì. Lo scatto del lupo. Vitali e Lado stendono il Pineto. Più 5 sul notaresco. Preoccupa l'infortunio al ginocchio di Esposito. Vasto Girardi, pesante sconfitta, subita ad Aprilia. 3 a 0. Fatale l'avvio. Agnonese, la vastese di D'Adderio, passa di misura al Civitelle. Eccellenza, in vetta vincono Alto Casertano e Isernia, Termoli, Corsaro. Poi si parla purtroppo a centropagina di un'altra tragica scomparsa. San Polo, Matese e Miranda, due paesi uniti dal dolore, stroncato da un malore, inutili soccorsi per un 36enne. Folclore in lutto. Aldo Gianfagna era uno dei figli migliori. Dallarino ottiene la sospensiva d'altar. Ginefra rimane al vertice della procura frentana. Termoli alla guida del SUV. Ubriaco prima finisce fuori strada e poi investe un ragazzo. Andiamo in taglio alto. Si parla del bollettino Covid. Resta fermo il conto dei decessi, altri 23 positivi e tasso al 6,4%. Vaccini agli over 65, 4.700 adesioni. L'altra emergenza. Si parla ancora di sanità. Mancano posti letto ordinari. Ambulanze in fila e pazienti in attesa per ore al pronto soccorso del Cardarelli. Adesso lasciamo le pagine locali e andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera e da una vicenda che ritroveremo anche sugli altri quotidiani. Il caso Fedez. Il caso Fedez agita i partiti. Rai sotto accusa, titola il Corriere della Sera, censurato sull'omofobia. L'amministratore delegato Salini della Rai dice falso Letta e Conte, con il cantante Salvini invece si smarca. Poi a centropagina del Corriere della Sera una immagine che arriva da Milano perché l'Italia nerazzurra oggi è in festa intercampione. Milano si tinge di nerazzurro, scrive il Corriere della Sera. Passiamo adesso a Repubblica. Anche qui il caso Fedez. In apertura ciclone Fedez sulla Rai. Censura in TV, scrive. La Repubblica al concertone il cantante denuncia pressioni per fermare il suo discorso contro l'omofobia della Lega. Arrivano le smentite ma c'è un audio. I partiti all'assalto di Viale Mazzini in vista del rinnovo del CDA. Figo, il Presidente della Camera, dice serve un cambio del servizio pubblico. Sui diritti faremo passi avanti. Anche su Repubblica una bella foto di bandiere e maglie nerazzurre. A quattro giornate dalla fine del campionato l'Inter si aggiudica il diciannovesimo scudetto. L'Inter non è più pazza, lo scudetto in anticipo titola Repubblica. Passiamo adesso al fatto quotidiano che questa mattina in prima pagina ha uno dei suoi bersagli preferiti, Matteo Renzi. 0-0-7, Renzi attaccava Conte e vedeva la spia all'autogrill. Si parla di un'inchiesta della trasmissione Report. Scrive il quotidiano di Marco Travaglio incontro Carbonaro il 23 dicembre con Mancini, quello del caso Abu Omar. E lasciamo il fatto e andiamo invece a Libero. Il Marasma Giustizia titola il quotidiano di Vittorio Feltri, giudici ancora sotto accusa. Il procuratore Nordio analizza l'ultimo scandalo nei tribunali. Basta con i PM che aprono inchieste senza prove né testimoni seri. Ambizioni liti e politica uccidono la magistratura. Poi anche sul Libero il caso Fedez, ma letto al contrario con certo contestato Fedez travolto dalla bufera per questioni di omosessuali. Poi c'è un'intervista di Libero a Vladimir Luxuria che dice Luxuria ammette la verità non è offensivo dire frocio. Questa l'intervista di Libero all'onorevole Trans come scrive lo stesso Libero. Andiamo avanti e passiamo al Tempo. Anche qui l'apertura dedicata al caso Fedez. Che ipocrisia! Scrive il Tempo, Conte si iscrive a forza Fedez. Caos al concerto del primo maggio i dirigenti di Viale Mazzini provano a censurare il rapper. Lui non si ferma e insulta la Lega e i manager della TV svelando le pressioni. la giravolta di Giuseppi si parla chiaramente di Conte tifa per il cantante e critica i vertici Rai che ha nominato proprio lui. Andiamo avanti con la rassegna stampa e la volta del mattino di Napoli. Recovery senza riforme si rischia lo stop dei fondi. l'intervista è al commissario dell'Unione Europea Gentiloni che dice ripresa forte anche in Italia. Effetto apertura e vaccini sul PIL previsto un aumento del 5%. Poi anche sul mattino il caso Fedez. Il rapper Fedez ha ragione ma il suo metodo è pericoloso scrive Massimo Adinolfi. Lasciamo il mattino e andiamo alla stampa di Torino. Fedez questa Rai è vergognosa questo scrive il quotidiano di Torino in apertura il cantante dopo l'intervento al concerto del primo maggio così si è espresso i dirigenti al telefono gli dicono c'è un sistema si adegui da Letta a Conte bufera sui vertici della Rai Salini l'amministratore dice nessuna censura e il PD adesso accelera sul DDL ZAN Lasciamo la stampa e andiamo sulla verità che questa mattina ospita uno scoop vengono pubblicate le intercettazioni sul caso Grillo esclusivo i verbali sulla folle notte di Porto Cervo così mi hanno stuprata in casa Grillo sono i verbali della vittima di questa squallida vicenda prima di arrivare nella villa avevamo già bevuto molto dice la ragazza dopo la prima violenza ho svegliato la mia amica chiedendole di andarcene lei ha fatto spallucce mi hanno costretta a ingurgitare vodka poi mi hanno messo in posizione di quadrupede e mi hanno penetrata entri davvero squallido vediamo anche sulla verità il caso Fedez il comizio lgbt di Fedez diventa un boomerang per la rai di sinistra dice la verità vediamo adesso invece le notizie economiche con il sole 24 ore che questa mattina ospita una guida alla maturità tesina curriculum e voti è iniziata la corsa all'esame prove in calendario a partire dal 16 giugno maturandi già al lavoro sull'elaborato commissari scelti dai consigli di classe poi si parla di fisco sul quotidiano di Confindustria nuovo fisco i nodi di IRPEF casa flat tax e sconti e adesso in chiusura della nostra rassegna stampa diamo uno sguardo alla gazzetta dello sport che questa mattina celebra l'impresa dell'Inter che ha interrotto interrotto il monopolio juventino sul campionato conquistando il diciannovesimo scudetto pazzi per l'Inter scrive la gazzetta in apertura e sullo sfondo piazza Duomo a Milano che si tinge di nerazzurro parlano i protagonisti Conte l'uomo dei sogni dice così ho fatto cadere un regno chiaramente il riferimento è alla sua ex Juventus poi parla l'eroe di questo campionato Lukaku in campo è da 9 e fa il capopopolo in giro per Milano Zhang quindi la proprietà della squadra sul tetto sventola il bandierone tifosi è per voi dice Zhang e poi parlano i protagonisti del triplete del 2010 dicono 11 anni dopo la squadra Mito siete come noi quindi celebrazione dell'Inter per la conquista del 19esimo Scudetto bene adesso diamo uno sguardo agli highlights della giornata sportiva aprilio a vasto girardi è terminata 3 a 0 poi si è giocata Santelfidio Recanatese 1 a 3 Campobasso Pineto 2 a 1 Montegiorgio Fiuggi 0 a 0 Olimpia Agnonese Vastese 0 a 1 e quindi vediamo la classifica aggiornata alla luce di questi risultati in testa il Campobasso a quota 57 segue il Notaresco a 52 Cinzia Albalonga 44 Castelnuovo Vomano 42 Matese 41 Recanatese 38 Montegiorgio 36 Vasto Girardi Castelfidardo a 35 Aprilia 34 Pineto 33 Vastese 32 così come il Tolentino Rieti 31 Fiuggi 26 Real Giulianova 22 Olimpia Agnonese 5 chiude il Santelfidio fermo a 3 punti Il Campobasso batte 2 a 1 il Pineto al nonno del primo tempo il gol a porta vuota di Vitali al 27esimo il raddoppio con il sinistro in area di rigore è di Ladu al 41esimo la punizione distante di Minnozzi beffa Raccichini ma finisce 2 a 1 per il Rosso Blu Olimpia Agnonese e Vastese finisce 0 a 1 la decide al 38esimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa vincente di Diarrà per il recupero della 25esima di campionato si gioca Aprilia Vasto Girardi 3 a 0 il finale locali subito in vantaggio dopo appena un minuto Basi dalla sinistra mette al centro per Martinelli che realizza l'1 a 0 al terzo sempre Bosi dalla sinistra punta il secondo palo di testa Succi in sacca il 2 a 0 dopo due assist al 41esimo Bosi finisce sulla lista dei marcatori fallo di Gentile su Succi di sorpresa viene battuto un calcio di punizione ed è 3 a 0 Aprilia al quinto del secondo tempo protesta il Vasto Girardi per un presunto rigore viene infatti atterrato in area Mercai ma per il signor Marra di Mantova è tutto regolare al 25esimo grande occasione per i molisani da calcio d'angolo Ruggeri di testa tenta di accorciare le distanze Salvati ci mette una pezza mercoledì si tornerà in campo Vasto Girardi di scena a Castelfidardo per il recupero della 27esima giornata di campionato eccellenza dove si è giocata la seconda giornata questi risultati Volturnia Aurora Alto Casertano 1 a 6 Sesto Campano Isernia 0 a 2 e Venafro Termoli 0 a 2 ha riposato il Boiano ed ora graduatoria della massima serie regionale Aurora Alto Casertano Isernia a pari merito a 6 punti Boiano e Termoli 3 tutti gli altri ovvero Sesto Campano Venafro e San Leucio Volturnia ferme a 0 Vince ancora il Città di Isernia e lo fa sul difficile campo del Sesto Campano minuto numero 28 cross di Di Giulio Gazzarro rispinge corto sulla sfera si avventa Petrone per l'1 a 0 nella ripresa dopo appena un giro di lancette Petrone recupera palla nella propria metà campo scarica sulla sinistra per Dovidio che crossa al centro De Vizia raddoppia e chiude i giochi sul 2 a 0 in favore di Isernia Si chiude qui la nostra rassegna stampa l'appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale a voi tutti buona giornata Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti